quattordicesima domenica del tempo ordinario ascoltiamo un bellissimo brano del vangelo di matteo quello che ci invita a riposarci in cristo venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro e usa questa strana frase prendete il mio gioco sopra di voi innanzitutto il gioco è qualcosa che non si porta mai da soli infatti nella realtà dell'uso agricolo del gioco ci sono sempre almeno una coppia di buoi che portano un gioco da cui viene il termine coniugi portano insieme lo stesso gioco allora prendere il gioco di cristo vuol dire iniziare andare al suo ritmo iniziare a vivere insieme a lui le cose e con lui portare il peso della realtà ma questo gioco è in realtà collegato a altro gioco prendete il mio gioco perché nella scrittura il gioco era anche una forma per indicare la legge ovvero sia l'obbedienza a dio che passava per tutta una serie di norme di regole di legge appunto per cui una persona entrava nell'obbedienza e prendeva il gioco prendeva su di sé il peso della legge questo peso noi sappiamo che non lo ha portato mai veramente fino in fondo nessuno il gioco della legge ha un compito secondo san paolo quello di mostrarci la nostra debolezza quello di metterci di fronte al fatto che siamo deboli e non riusciamo da soli a fare il bene questa è una verità del cuore dell'uomo che l'uomo molto spesso ha cercato di rifiutare ha cercato di dimostrare di essere autonomo e capace di compiere il bene sulla base della sua propria semplice natura e così noi abbiamo vissuto anche dei deliri storici che ci hanno portato dalla affermazione della nostra capacità una affermazione tronfia che però ci ha portato solamente a creare tanto dolore tanta sofferenza la autonomia della ragione umana in realtà si è risolta nei campi di concentramento e il delirio delle ideologie si è risolta in tanta oppressione quel che resta è che c'è un altro gioco rispetto a questa pretesa su se stessi di essere all'altezza di quello che la vita ci chiede no noi non siamo altro che questi stanchi e oppressi noi dobbiamo saper ammettere la nostra fragilità però questa è la seconda parte del vangelo è molto importante notare che questa espressione meravigliosa di cristo venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi è conseguente a qualcosa che gesù ha detto prima ora sta parlando a noi ma prima ha parlato con il padre dicendo ti rendo lote padre signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose quali cose la rivelazione del mistero di dio il conoscere dio veramente il riconoscerlo mentre viene infatti non possiamo comprendere questo brano se non diamo una scorsa a quel capitolo 11 che precede appunto questo testo che è la fine di questo capitolo 11 si mette a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei prodigi perché dice gesù guai a te corazzini guai a te bezzaida sia tiro e assidone cioè città pagane città estranea la terra di israele dice sia tiro e assidone fossero avvenuti i prodigi che sono stati in mezzo a voi e da tempo si sarebbero convertite e anche cafarnao che ti credi di poter essere autonome di rifiutare la mia parola perché a cafarnao gesù viene sia accettato che rifiutato ecco nel giorno del giudizio a sodoma andrà meglio perché perché sodoma di fatto è il luogo dove i pellegrini vengono abusati non vengono accettati non vengono accolti non accogliere infatti prima ancora ha parlato con la generazione di coloro che hanno rifiutato il messia vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato abbiamo cantato la mente non vi siete battuti il petto dice gesù citando questa canzonatura da bambini perché a giovanni battista non hanno dato accoglienza e neanche al figlio dell'uomo ovvero sia lui stesso al messia ecco a chi dio si è rivelato ai piccoli il signore ha nascosto giovanni battista e il messia stesso ai sapienti e ai dotti per rivelarlo ai piccoli infatti a giovanni battista andavano coloro che riconoscevano i loro peccati e a gesù si avvicinano i poveri in spirito si avvicinano i afflitti si avvicinano coloro che sono affamati e sedati ecco questo è il punto per conoscere il signore bisogna riconoscere la propria povertà non c'è via d'ingresso per il signore nella nostra vita se siamo adoratori del nostro ego è molto interessante quella bellissima espressione di francesco di assisi che troviamo nelle fonti quando la prima volta che lui disobbedisce a se stesso e si avvicina ad un lebroso per baciarlo riconoscendo in lui la presenza del signore dice una delle grandi storie narrazioni della vita di francesco quel giorno per la prima volta smise di adorare se stesso smettere di adorare noi stessi e riconoscerci piccoli stanchi oppressi per poter imparare dal colui che è mite e unite di cuore infatti la prima lettura parla dell'incedere mite rispettoso del messia come compare nella profezia del profeta zaccaria capitolo 9 infatti il signore viene a noi secondo mitezza non secondo imposizione non viene come un vincente viene come un medico che cura il malato viene come uno sposo innamorato della sua sposa viene come colui che è mite e umile di cuore che cerca il ristoro di colui che lui ama e siamo noi ecco in questa domenica noi celebriamo quella strana porta d'ingresso che dio ha nella vita di ognuno di noi la nostra piccolezza noi che cerchiamo costantemente di affermare quanto siamo forti belli grandi intelligenti stupendi invece sappiamo che da quella porta di servizio che conoscono solamente i servi entra il servo dei servi che è cristo lui entra dalla nostra povertà apriamogli la porta che ci conviene